che se via qua e non lo so sai sì io prendo la mia una classica la bagna per il meme giovanni link anche a me che almeno ascoltiamo la stessa e facciamo partire va benvenuti nelle corse dei cinti allora allora io sì cio di quattro giorni fa ho fatte con la cosa cosa quale si hanno deciso hanno deciso a natale ovviamente tutte le corse sono con con la neve e non puoi farci nulla un cazzo sì quindi ma frate non ci puoi fare nulla adesso quello lì anzi tu non puoi farci nulla se il gioco praticamente ha detto che sono con la neve non puoi adesso 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 non hai capito cioè no adesso dei gamme toccami un'altra volta tipo la l'antico la tua madre di vola guarda che non mi vuole far passare il tumore che mi incontro casco sulla palla da carcio un pazzisco mamma mia quanto cazzo se frena male sulla neve piano pazzisco mamma mia quanto va questo grande che lo sveglia di freddo che lo non si arrivano non si arrivano giammà non ci arrivi da primo non ci arrivi mortacci loro sono già nono io odio le corse giammà a che punto sei voglio morire non si capisce ma dimmelo che te vanno a dritto ma che succede in mezzo ai coglioni ma che è avvenuto ma dimma dimma sei un coglione dimma no io sta corsa la conosco non avevo riconosciuto la pista non avevo riconosciuto la pista perché indovina da chi è arrivato dei gambe non è quella che sono arrivato secondo che mi hanno sorpassato all'ultima va bene tu chiama il caso dei gambe no c'è qualcosa che non mi quadra che è il coglione rosso c'ho 7 c'ho tipo 8 macchini davanti bannare il rosso c'ho 8 macchine davanti e so terzo anno a me sono diventato il capitano no ragazzi siete dei incoglioni sono il capitano meno 2 meno 3 no ma siete dei no famiglia di chi è rosso siamo tutti primi allora è risla è risla si banna risla easy fuori dai coglioni no risla il mio club si si non me ne frega un cazzo guarda sto testa di no no frate se banna risla per cazzo mi sembra c'è il livello 3 dal canale mio non me ne frega un cazzo vola via subito va bene abbassa il mic è un'azzito io che urlo sulle corse amo va bene riga me cagate il cazzo fammi ringraziare tu sabetti vedi un triplo di un triplo di un giro porco bollo vabbè se dici di una posizione dici posizioni sta bene prese gg è nel giuling no mi grazie un 40 bit cazzo con le moto zi con le moto sulla neve ma cos'è questa fiesta cazzo con le moto ma madonna cioè nel senso allora frate madonna no in realtà lo sai che secondo questa qui si può far bene ferro ma tu lo sai che c'è la neve ferro ma mi puoi mettere una cosa con le moto in montagna con la neve ma che sto con le escursioni ma che sto io mezza fariso ma che è oh eh sono morti tutti qua davanti già ma sono svenuti tutti che succede hanno tirato la testata contro il coso il ferro anzi anzi io a me mi piace una fracca guarda i video a pranzo allora dico vabbè vediamo se st'ultimo video di human safari a pranzo avessi mai fatto se mangiava il formaggio chi i vermi che dici il caso marzuzzi si ho capito che sto a mangiare una bella bistecca mi vedo questo è un buono sto formaggio che gli esenziava tutti i denti gialli sono morto ma quanto è stato buono champagne ma ma mori anche tu non hai capito e quindi si lo ti manda a fare in culo gg drift quanto sta messo quanto sta messo settimo come settimo si 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 zitto 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 dai mi tu strisce dai mi tu strisce dai dammi la striscia che schifo guarda 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 perché vanno più veloci di me perché vanno tutti più veloci di me vanno tutti più veloci di me non prendo la scia è sceso dalla moto già mai sceso dalla moto chi è sceso dalla moto io l'omino coglione frate l'avevo ripreso frate l'avevo ripresi l'avevo ripresi no ragazzi ero sesto sono sedicesimo oddio stampolo champagne ti vedo official sei già mio official tu chiami il cazzo ma che cazzo di curve vai vai io quando faccio le curve tu premo il clacson per sbaglio guarda 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 come ha ripreso queste posizioni guarda che culo guarda che buce che culo oh che ti dici non ci sto credendo voglio impalarmi nel buco del culo voglio impalarmi vivo nel buco del culo ma che cazzo sono ste robe cos'è la bifta se sei uomo metti la bifta e la giochiamo io e te indipendentemente dalla posizione se sei uomo metti la bifta cioè sta non sei uomo eh si se non metti la bifta se non metti la bifta non si conta questa no la non metto la bifta no no ufficiale fidate non ti metti mettite la sanchez fidate vedi vedi io tutti così voglio il pischello che mi viene a donare 5 euro e mi scrive dai il sub da te lo offro io vabbè ma sei un cane giro uno di due giro uno di due forse hai ragione come giro no frate guarda che mappa guarda che mappa li mortacci tu a ghost li mortacci tu a ghost no frate frate se te salgono sopra con le macchine è finita e dovina chi l'ha fatto ma scusa ma di ma solo ma è Dima è Dima è Dima scusa ma quello c'ha 66 anni e gioca GTA 5 lui il Ducro Dima getta una vita cioè va a fa dufi non lo so sforna dufi qualcosa inventa Dima ha 66 anni impazzisco sulle mani oh ma io sono primissimo ma invece non è vero il Ducro come se sono uniti Dima no Dima è ferro dietro ma fai schifo Dima ferro dietro compagno Dima 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 sai che fare Dì ma sai che fare Dima Bato croti ma sei un meme 6 un meme sei la legge 2 sei g favour la prima posizione sarebbe urlo mamma mia se Beh giuro se Se mi incastravo dentro qua la fraschetta, la frasca gli sta a mod, impazzivo Ma dai, sono clown, si, spammatemi il clown Sto a killar, la sto a killar No ragazzi, impazzito La sto a killar, io ho preso la trollata Sto a per la... Frate, mamma mia, mi stavo la... Frate, frate Ma fa che a me fa a me che è il palettone, Samu Ma zico, no, fa la curva No, dai, dai, frate Dai La curva, la... Il fan te l'ha messo nel culo, si La curva, l'arghissima Eh, io l'ho bello intanto, si Ha giocato 76 di forze nel mio cazzo di gare Sulle mani, senti Sulle mani Ma che cazzo è sta visuale che mi sembra... E basta Allora, Ferro, Ferro appena ha detto... Ferro ha detto che questa è la miglior gara dell'elenco Ecco, e indovina chi c'è, primo lui Certo che lo dice, primo lui Allora, official, per quanto ti credi di intelligente Io sono riuscito a capire che Barbagiani significa No, in realtà, in realtà è diverso Ma forite! Dai, frate Ma a te pare che il camper è salto il checkpoint perché va troppo veloce Ma che significa? Chi è che è saltato per aria lì dietro, scusa, eh? Sono l'enricchi Sono l'enricchi esploso Frate, frate, è una gara tutta dritta E io ho lisciato il primo checkpoint E tu pensa che a un certo punto... Qui ho rischio, ho rischio Qui ho rischio, ho rischio Oddio, Ferro ha fatto la curva larga Anzi, è finito nell'altra mappa G, 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 G Guarda, 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 guarda Primo, chi c'è secondo? Se c'è Dima, impazzisco, è Manux Easy, poi c'è Ghost E poi l'altro chi è? Dima, eh certo Figurati se non c'è Russo lì dietro Easy, uscito da Cernobil con quattro braccia, sei gambe e due teste Easy, guardalo lì dietro, Dima Ma vattene a prendere nel culo, porco darda Guarda, sì, frate No, 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 io ne devo fare con sto tumore di merda Le gare, mi viene veramente l'ebola Questi c'ho i camper che mi sartano sopra C'ho i camper che mi sartano sopra Ma che so, grilli sono Padre Guarda, guarda il mio fottuto camper quanto corre C'ho davanti, c'ho Samu Davanti c'ho Samu, che è quello che mi ha rubato prima la posizione Ma che cosa? Ce hai vinto G, G, G G, G, G G abbiamo uno che ci capisce in cazzo Uno di due, sì, ma questa qui è tryhardata Ma lei ma per e senza collisione è tipo per forza tryhard E te credo che è forza tryhard Fammi ne fa almeno una visto che sono per me addolvato da 5 gare Ma sei un... questa qui ad incrocio era da fare tutta con le collisioni Eh sì 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 ma che collisioni No no Sei un pollo Giamma sei un cazzo di pollo Ti giuro Cioè no no Era POG questa Ma che POG Almeno una una seria Va bene va bene questa qui è seria Tu sei pazzo Tu ti rendi conto che cosa sarebbe stata questa gara con le collisioni frate Io ti ho salvato Io ho salvato tutta la lobby Frate tu ti stai rende conto che questa veramente Tu sei terzo Ma questo è schifo Ma che sto a dire Ma che sto a dire Ma che sto dicendo Ma dirai, io non so parlare in italiano Ma benvenuto nel gruppo Giamma Con le collisioni ma secondo me comunque le curve in le curve col natale le curve con con la neve si dove sono addobbato che testa succede già ma certi ho sentito poteva essere solo la voce di dima quella no 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 sarà stato red a frate a frate guarda che io il primo non riposso prende io il primo lo posso prende su ste curve teone 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 in risposta a 100 bit non ho scioppato niente ho fatto il sabbio riscattato la cartella gratis ho vinto con quella cioè quindi tu mi stai dicendo teone che va è worth fare il sabb quando si fa la la tombolata cioè grazie grazie e magari teo la butto la amazon prime ne chiamo barba gianni poi si chiamano barba gianni è stato fermo abbannato dalla mia chat official no è stato per ma questo è il campione si so tre ore che gli dico guarda che ti sento anche quando mi muto e lui mi muto e fa richiamo il barba gianni signori richiamo il barba gianni ma non hai capito cos'è il barba gianni ma sei un coglione hai preso la tempeste ma che macchina è preso si ha preso la terza ho preso ma che macchina hai preso gianni no è la tesseract frate che cazzo è la tesseract out of avengers che cazzo hai preso il cubo testa di merda guarda che buona è sono tornate le collisione non sono partito gg sono tornato tanto ormai te ci hai affezionato ti ho flessionato con la merda che io cago serve che mi lavo giamma sei un coglione coglione frate se cazzo è diventato un barba gianni si era quello insomma no vabbè di ma ragazzi di metto retto di metto retto non pelato di metto retto prima che diventa separato guardano frate 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 marche sound viene ferma bannata è da prima che mi sta appiccicato quindicesimo su una gara che palesemente non mi meritavo la quindicesima posizione che ha addobbato l'ultimo alla fine ma sei una scimmia voglio tutta la lobby addosso a red tutta completamente tutta la lobby addosso a red livello 292 devi stare devi stare attento quando fai questa richiesta da the real file per deluxe per addobbole vabbè mi muto e ringrazio 2 sabbo capito si gode si gode si gode sulle mani poi si è arrivato quel momento boys è arrivato quel momento boys seguite il titolo boys ma che cazzo è il selesso s che state a lanciare fra grazie come balla l'omino alieno g 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 voglio morire voglio morire io sto ringrazio 3mila voci sottofondo di questi core microfono frate ho preso la taipan su una cosa su una corsa da 22 kg stanno già addobbato da rima e con le gara realizzata per deluxe a dopo land giammo no giammo anche incoglionato pia pia un paio di macchine tanto sono 22 chilometri official se non faccio io faccio qualcun altro tanto vale che tappi mi stanno portando g g g g g g g g g mi stanno portando la madre a zia ma hai sbagliato tutto hai sbagliato gioco nozi ho lasciato un checkpoint ok orco diavero a massa è quello dei banci di lire di ii non sono verde di g g g g g g g g g Panther diventa una gara seria desicriaco official ma suddenly fatto hai visto come guidano la prima c'è le sempre come si chiama ho capito che c'è tra c'è il massimo capire il traffico al massimo non c'è traffico modalità sinto però guidatori modalità si chiama le guarda che cazzo fanno sono malati sti guidatori prendono la scia prendono la scia prendono la scia mi sembro due pequeno quando faccio le sdrogocorse ti giuro mi sembro due pequeno insulto ma che cos'è ma che cos'è l'apocalisse è l'apocalisse aiuto 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 giammai ero io quello che t'ho spinto t'ho anche dato la mano ti rendi conto ma frate ma che sto vedendo mi spingono mi spingono porco ho preso 6 posizioni e si sboccia di madima di scia mi ha spinto il pelato ma stanno spaccando la mappa zitto zitto anzi questa si cioè la questione è questa o non fanno giocare red o è inutile ma tanto dopo cambiano tutti abbiamo gli altri con i nuovi ma red non deve giocarsi ma tanto la gala tra me e te ma si divertono tra di loro sti cazzi a te è il po che a me che mi arriva il po che su team speak the dima che mi fa il cuoricino no 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 io modi ma ho prendo un metto di ma di ma non parli svegliate freddo però però tu non è arrivavamo top 5 se giocavamo già marco c'era una operazione in corso molto importante no no svegliate freddo operazione in corso operazione barbagianni la soldi del barbaggiani beh Sì Ma che è? Eh sì è formula 1 Nooo Ma ci capirai No di ma vattene via Subito Bravo ufficiale An culo prima ho addobbato anche a me Non lo so Danci Non ne ho la più palle Ma si distruggono come le macchine normali Allora guarda solo perché so buono Anche perché mi sembra che la neve non le affligga Sì ho notato Non frena Non frena mai In realtà nemmeno Anzi con le formula 1 Se stiamo con le formula 1 Dovresti fatte senza mai frenare E senza mai fancazza Indovina Eh vabbè sì ma io sono un pippone Quindi ole Tu ti rendi conto che sono l'unica persona Che è riuscito a slittare con una macchina Che teoricamente non slitta neanche? Brutto testa a coda signori Brutto testa a coda di Gianmarco Tocco Che la trolla malissimo Ci sono diversi tipi di macchine Formula 1 su GTA Tu hai preso quella senza turbo C'è L'artici aveva nel turbo Stavo a scherzare C'è veramente Scusami ma tu lo sapevi che la bambina Quella che recita nel green C'è la cantante di Just Tonight Di Just Run Sì Certo Ma che cazzo stai Eh frate ma lei ha recitato anche in Costa Rica Grazie per i 23 Ben tornato Chris Non lo sapevo quello Vuoi fare l'uomo? L'uomo vero? Fasmofobia Pietro grazie per gli uomini Fasmofobia te lo scarichi Pesa un cazzo E ci facciamo un nuovo aggiornamento Su una nuova mappa stasera Se mi vieni qua a fare una pompa Forse Anche due Grazie per l'euro No zi Se solo sei uomo No 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 zi Fasmofobia stasera mi sgozzi No eh vedi non sei l'uomo abbastanza Eh 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 ma io voglio papicce ferro Guarda ferro che usa tutte le scorciatroie Ragazzi Ma mi stanno pure seguendo gli altri Ma che cazzo Potete per favore respawnare e non stare sopra qualcosa Oh madonna di Dio Se non lo fate Ma che è No è il warride quello pilotato No Eh qua non fai GG Finita la partita GG GG La fa solo chi a culo Frate la fa solo chi a culo O forse la fa solamente Chi si chiama Gianmarco Tocco La fa forse solamente Mamma mia Vabbè abbastanza pilotato Gigi 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 Quanto la vedo grigia Giego non ti venga addosso Giego Giego non ti venga addosso Giego Giego non ti venga addosso Giego E niente non lo faccio perché c'ho troppa scia Voglio morire Voglio morire ragazzi Voglio morire Vaffanculo l'ho preso GG GG Giri GG Vabbè ragazzi Frate Frate però io non so C'è 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 sta gente che gioca senza essere mai toccata C'è c'è quel red frate che gioca senza essere mai toccato Ma che devi fa' C'è veramente io ragazzi non riesco a capire Io non riesco a capire gente come questo qui Nova 600 Frate ma se ti addobbi Se ti addobbi su una stunt Perché non premi triangolo Che stai giucciando? Non si mi stanno venendo gli spasmi Mi stanno venendo gli spasmi Che gara di merda Che gara di merda Vai dammi una botta Oh mi hai dato una botta Oddio non funziona Quitiamo queste gare Dai mi sono rotto il cazzo Basta Come come si esce dalle gare Quadrato su su quadrato cerchio X Niente ha moltato boys Vabbè